Innanzitutto grazie mille per l'accoglienza e per il tempo. Siamo a Veve, nel Canton Vaux. Cosa significa questo posto? Per me essere qui è un grande piacere. È la regione dove sono nato, dove sono cresciuto. E quindi ovviamente ho tanti ricordi legati a questi luoghi. Sono per lo più ricordi sportivi. È qui che mi sono avvicinato al basket, è qui che ho mosso i miei primi passi. Quindi, ripeto, accogliervi in questo luogo è davvero un grande piacere per me. Torniamo agli inizi. Hai iniziato ad approcciarsi al basket con suo fratello. Ma come è nato l'interesse per questo sport, l'amore per questo sport? Nella mia famiglia, a dire il vero, lo sport non occupava un posto di rilievo. Io e mio fratello abbiamo iniziato giocando a calcio. Poi, piano piano, ci siamo avvicinati al basket. All'inizio, soprattutto giocando per le strade, a due contro due, a tre contro tre. Era soprattutto divertimento, dove il gioco era velocissimo. Poi, grazie alle Olimpiadi di Barcellona e al primo Dream Team a stelle strisce, il gioco si è trasformato in una vera e propria passione che ci prendeva ogni attimo del nostro tempo libero. Volevamo imitare quei grandi campioni e fra me e mio fratello è nata una vera e propria competizione. Una competizione che mi ha aiutato molto nella mia crescita. Poi, a 16 anni, avete iniziato a giocare nel VV in prima squadra. Com'è giocare a un livello così alto con il proprio fratello? Ripensandoci oggi, a tanti anni di distanza, mi rendo conto che quello per noi era un sogno che si realizzava. era anche la concretizzazione del tanto lavoro e del tanto tempo che avevamo dedicato a questo sport. Non solo io e mio fratello, ma anche un vero gruppo di amici che tutti con lo stesso sogno lo vedevano concretizzarsi muovendo i primi passi nelle palestre che contavano. Vedavamo come è raggiungibile il traguardo di fare, della nostra passione, una professione, diventare giocatori, professionisti. Poi, a 18 anni, è cambiato tutto. È partito dalla casa e è andato in Francia, a Chalons, per tentare la carriera sportiva, ma comunque continuando a studiare. Credo che partire per vivere nuove esperienze sia qualcosa di necessario per un giovane che ambisce a crescere sia come giocatore che come uomo. Ho avuto l'opportunità di andare in Francia e conoscere un modo diverso di vivere lo sport, dove il professionismo è molto più presente a tutti i livelli. Sei confrontato con un ambiente molto più esigente, ma quando sei davvero appassionato di quello che fai, non c'è nulla che ti pesa. Hai solo voglia di approfittare di questa esperienza eccezionale che ho solamente voluto abbracciare pienamente, dando sempre il 200%. E con la scuola? Sempre andato bene a scuola, Tavos e Folosha? La prima classe. Nella terza stagione, lì in Francia, ha partecipato agli All-Star Games, è stato messo dall'equipe nella squadra migliore del campionato. è forse lì che ha capito di poter fare qualcosa di importante con questo sport. Credo che sia stato un momento chiave nella mia carriera. Era da una parte una ricompensa per gli sforzi che già avevo profuso. Il fatto di riuscire, nonostante la mia giovane età, a mettermi in evidenza in una lega di alto livello era nel contempo la dimostrazione che con l'impegno e la costanza si potevano ottenere risultati davvero importanti. Tavos e Folosha aveva un idolo o un modello da seguire? Credo che come tanti giovani della mia generazione l'idolo non poteva che essere Michael Jordan o magari Magic Johnson, giocatori che noi ammiravamo, anche se devo essere onesto, visti da qui ci sembravano un miraggio lontanissimo. Era anche un mondo diverso, i social non esistevano ancora. In definitiva, questi straordinari campioni erano un modello sportivo, erano idoli del nostro sport, ma i veri idoli, i veri modelli della quotidianità erano molto più vicini, penso per quel che mi riguarda a mia madre, a mio padre o a mio fratello, cui mi sono molto ispirato. Poi a 21 anni è cambiato di nuovo tutto, è andato in Italia, dunque un'altra cultura, soprattutto un'altra lingua. Della mia avventura italiana o dei bellissimi ricordi, si trattava di una nuova esperienza che arrivava al momento giusto. In Francia avevo terminato i miei studi e potevo finalmente dedicarmi completamente alla mia carriera di giocatore professionista. Anche sul piano personale è stato davvero speciale confrontarmi con una nuova cultura, a stringere nuove amicizie, a creare nuovi legami. Senza dimenticare che l'Italia è stata anche un trampolino di lancio ideale per spiccare il volo verso la NBA. Di questa esperienza asserbo solo ricordi positivi e ancora oggi ho parecchi contatti con le persone conosciute in quegli anni. e facevano anche dei cori per Tabo Sefolosha. Com'era il coro personale di Tabo Sefolosha? C'erano molti cori, praticamente ogni giocatore aveva il suo. In Italia è rimasto solo un anno perché poi è arrivata la tanto attesa chiamata dall'NBA. Cosa si prova a sapere di poter andare negli Stati Uniti ed avere una possibilità di inseguire i propri sogni? Tra l'altro è stato draftato alla tredicesima chiamata. Quando è arrivata la chiamata dall'NBA devo ammettere che in un primo tempo quasi non riuscivo a crederci. Un sogno che diventava realtà. Se poi penso anche alla fortuna di essere stato scelto da una grande squadra come i Chicago Bulls tutto mi sembrava ancora più incredibile. Poi però da subito mi sono anche detto che per il giocatore professionista che ero quel passo non era il traguardo ma un punto di partenza e che il vero lavoro cominciava in quel momento. In definitiva c'era una grande felicità per aver raggiunto quell'incredibile obiettivo ma nel contempo la consapevolezza di dover lavorare ancora di più giorno dopo giorno. Per motivare la scelta di Tavo Sefolosha il primo coach disse Tavo ha una grande forza mentale come pochi ragazzi della sua età si vede che è ben consapevole di ciò che deve fare per sopravvivere là fuori. Lei si riconosce in queste parole? Ripensandoci oggi direi di sì ero un giovane che provava a raggiungere i suoi obiettivi lavorando duramente oggi mi rendo conto che avevo degli obiettivi e che per raggiungerli mi sono dato le possibilità sono partito da casa ci mettevo tutti i giorni la stessa passione e la stessa gioia non riflettevo molto sul lungo termine ma sì, oggi mi rendo conto che effettivamente tutto questo è stato possibile anche grazie alla mia forza mentale. Inizio col dirti che non è una leggenda è davvero meglio portare i donuts all'allenamento se non si vuole avere qualche problema subire scherzi da parte dei compagni è però normale fa parte del processo di integrazione contribuendo a rinforzare i legami niente di eccessivo comunque al di là di questi aspetti nei primi mesi è davvero tutto un continuo apprendistato impari a muoverti in una realtà gigantesca sei confrontato con una pressione mediatica quotidiana dove capisci in fretta quanto grande sia la posta in paglio e gli interessi che ruotano attorno a questo sport devi alzare il tuo livello devi allenarti di più devi giocare sempre meglio ma soprattutto devi avere sempre fiducia in te stesso è solo questo che mi ha permesso di restare 14 anni nel più grande campionato del mondo è lo spirito con il quale ho affrontato questa sfida da giovane e che ho portato avanti fino alla fine c'è un lavoro estremamente duro e c'è qualcosa di cui ho sempre creduto facciamo un piccolo quiz in un uno contro uno chi vince tra LeBron James e Michael Jordan? per me c'è Michael Jordan c'è una question piège per me c'è Michael Jordan tra Donchic e Young? oh Donchic invece tra Capella e Sefolosha? Joker? no parità e poi è andata a bere una birra? voilà la mettiamo via così perfetto invece tra Kobe Bryant e Shaquille O'Neal? Kobe Bryant e proprio Kobe Bryant cos'è stato per Tabo Sefolosha? una leggenda una leggenda in campo ma anche per come ha gestito la sua straordinaria carriera per come ha sempre dato tutto per la sua passione è un giocatore che mi ha trasmesso la voglia di giocare a basket che mi ha letteralmente ispirato aver avuto la possibilità di giocargli contro di averlo di fronte a me in campo è davvero stato qualcosa di speciale ancora di più ripensando la sua tragica scomparsa quando penso a lui però provo a lasciare da parte la tristezza e a riportare alla mente solo l'immagine di quel giocatore che mi ha fatto sognare che mi ha motivato nel mio percorso e che mi ha anche provocato qualche incubo quando sapevo che lo avrei affrontato e che avrei dovuto contrastare i suoi attacchi un giocatore incredibile una leggenda appunto possiamo dire che il periodo agli Oklahoma City Thunders è stato forse il momento migliore della carriera di Tabos e Folosha ricordiamolo ci sono state le miglior statistiche nella seconda stagione viene inserito nel secondo quintetto difensivo migliore della Lega e poi le NBA Finals del 2012 per me è un periodo indimenticabile avevamo una squadra formidabile con la quale abbiamo raggiunto traguardi che nella carriera di un giocatore diventano ricordi indelebili penso però che in ogni fase del mio percorso sportivo ho imparato qualcosa ho aggiunto un tassello al mio percorso e alla mia crescita diventando la persona che sono oggi certo ci sono stati alti e bassi ma credo che sia difficile isolare il miglior momento o il peggior momento la carriera di un giocatore professionista è fatta della somma di tutti questi fattori tornando alla tua domanda è vero che quella stagione è stata incredibile anche grazie al talento straordinario dei miei compagni citiamone un paio ad esempio James Harden, Kevin Durant, Russell Westbrook sono nomi importanti esattamente hai citato tre giocatori poi finiti nella Hall of Fame giocare con loro è stata un'esperienza che non dimenticherò mai ma sarebbe ingiusto ricondurre tutta la mia carriera solo a quei momenti il giocatore che sono è il frutto di tutte le esperienze che ho vissuto abbiamo citato tanti nomi forti che hanno fatto la storia e che stanno ancora facendo la storia dell'NBA se Tavos e Folosha dovesse fare una partita tipo Space Jam per salvare il mondo qual è il quintetto titolare che mette in campo? una bella squadretta nel 2015 giocava ad Atlanta negli Hawks però purtroppo fuori dal campo sono successi dei fatti un po' spiacevoli fa parte degli alti e bassi di quanto ho vissuto negli Stati Uniti è un paese dove la cultura è diversa dove la storia è diversa e dove le persone si trattano in modo diverso fra di loro mi sono trovato in una situazione spiacevole purtroppo non sono il solo ad aver vissuto un'esperienza così negli Stati Uniti capita purtroppo spesso d'altronde molte persone si sono indignate e hanno anche manifestato contro la violenza della polizia perché di questo si tratta è questo quanto ho vissuto in prima persona a New York è qualcosa che mi ha profondamente toccato e forse anche cambiato io ho avuto la fortuna di essere circondato da persone che mi hanno aiutato e difeso io ho potuto a mia volta difendermi e dimostrare di essere stato una vittima di una violenza ingiustificata da parte della polizia ma troppo spesso purtroppo le vittime di questi atti finiscono in prigione senza colpe ho allora provato a trasformare questo episodio in qualcosa di positivo facendo una donazione affinché chi non dispone dei mezzi finanziari per potersi difendere lo possa fare in quell'episodio ha anche subito un infortunio alla gamba questo infortunio ha poi anche inciso sul proseguire della carriera oppure no? certo, quando ho subito questa aggressione ero ancora giovane e avevo davanti a me buona parte della mia carriera sportiva oltretutto eravamo alla vigilia dei playoff ad Atlanta avevamo una squadra incredibile c'era una chimica pazzesca e la fase finale era davvero lì da prendere è chiaro che questa vicenda mi ha toccato anche sul piano fisico ho subito una ferita importante di cui sento ancora oggi le conseguenze ma io cerco sempre di guardare avanti e di trovare il positivo in tutte le situazioni e magari anche questa esperienza ha poi pesato sulla scelta di tornare in Svizzera sì, anche se il rientro in Svizzera non è stato determinato solo da quell'episodio certamente un po' ha influito devo però dire che da sempre sapevo che prima o poi avrei avuto voglia di riallacciare i contatti con il mio passato, con il territorio che mi ha visto crescere ed è quello che ho fatto tre anni fa rientrando in Svizzera con la mia famiglia ora stiamo creando le basi per nuovamente affondare qui le nostre radici penso che fosse il momento giusto per provare a chiudere il cerchio anche sul piano sportivo ero ancora in forma e ho voluto in qualche modo far approfittare della mia esperienza anche la squadra dove ho mosso i miei primi passi è stato un bel modo per riallacciare i legami con una realtà che mi ha permesso di diventare quello che sono ma anche con il pubblico svizzero, con il nostro campionato per me era un modo per restituire qualcosa e contribuire allo sviluppo di uno sport che davvero mi ha dato tutto tutta l'esperienza accumulata nei vent'anni di carriera l'ha poi aiutato nel post? bien sûr, bien sûr certamente sono stati venti anni di continuo apprendimento, di continua formazione venti anni di professionismo dove incontri grandi personalità e dove sei quotidianamente confrontato con un mondo molto esigente ho avuto la fortuna di vivere una carriera molto arricchente da tutti i punti di vista da alcuni anni ho anche dovuto occuparmi di tanti aspetti che esulano dallo sport sono tutte esperienze che mi hanno fatto crescere come persona e che oggi mi permettono di affrontare serenamente il dopo carriera e di pianificare il mio futuro tutto questo per me rappresenta un bagaglio molto importante un bagaglio su cui appoggiarmi e ora cosa vuole fare Tavo Sefolosha da grande? la mia passione è sempre stato il basket e sempre lo sarà oggi ho voglia di dedicare il mio tempo allo sviluppo di questo magnifico sport in Svizzera il mio futuro, lo spero così